Buongiorno Friuli, leggiamo anche questa mattina insieme quelli che sono i principali articoli sulle testate locali e nazionali. Il giorno dopo, quella che è stata anche un lunedì, un lunedì di riflessione in Casa Bianconera e campeggia poi in tutte quelle che sono le pagine dedicate all'udinese, quella che è stata la telefonata di ieri sera realizzata insieme al patron Giampaolo Pozzo e mandata in onda durante la nostra trasmissione Udinese Tonight per proprio scansionare quello che è il momento. Il Mirino è su Colantuono, Pozzo lo salva. Abbiamo sbagliato tutti ma l'allenatore avrà Lazio e Empoli e Milan nell'arco di una settimana per invertire la rotta. ha scelto dunque la nostra emittente del patron per parlare con quelle che sono le tematiche più importanti del momento. Una difesa decisa del tecnico è fuori discussione, adesso non vogliamo sprecare energia e parlare di cose che non esistono. Quindi molto chiaro il pensiero del patron Giampaolo Pozzo su questo tema e poi sonni agitati, così come vengono definiti. Dobbiamo giocare in Serie A, non abbiamo fatto lo stadio per la B, questa è un'ipotesi da scongiurare subito. Anche in risposta ai tanti messaggi che stanno anche arrivando da casa, che qualcuno paventa con questo spettro da retrocessione, ha voluto scongiurarlo assolutamente il patron bianconero, messaggero, che poi ha in quelle che sono le sue foto, sempre della pagina, alcuni scatti del momento inquadrati anche con uno dei volti che è stato protagonista in campo nel passato recente. Ion Valem, ipotesi di Valem, ma in Belgio, perché si sta facendo una lista di nomi papabili per quello che riguarda un possibile avvicendamento in panchina. Ci sono Prandelli, Corini o Calori, la pista principale porta all'estero in Belgio, dove Valem allena una scuola con cui dovrebbe rescindere il mercato. Invece l'ultima settimana di lavoro c'è la foto di Gino Pozzo, si lavora, non necessariamente un mediano alla Berami, da Torino riferiscono di Udinese, ancora vigile sul deluso Quagliarella, mentre la caccia esterna o sinistra potrebbe portare al cavallo pazzo di ritorno Armero, che tra l'altro è già stato avvistato più di una volta in sede. Il ritiro, allenamento a porte chiuse, nessuna forma di protesta ripresa dalla preparazione al centro bruseschi, Colantuono ha ordinato un allenamento a porte chiuse, nonostante i tifosi abbiano deciso di tenersi a debita a distanza dalla squadra, che ha cominciato la settimana di ritiro con una doppia seduta. La foto ovviamente del tecnico che si scrive nel titolo, è in questo momento nel mirino. Urge una sterzata, lo dicono anche lontano dal Friuli, c'è riportato poi tutta una serie di commenti che arrivano dal panorama nazionale. C'è un titolo, l'Udinese entra in piena crisi con l'Antonio Inbilico per adesso la squadra è andata in ritiro e sta sondando a disponibilità Pozzo di altri tecnici per dare una sterzata, questo quanto ripreso dal Corriere dello Sport. Ci sono ripresi anche i voti, che non sono stati sicuramente morbidi da parte delle testate nazionali, e poi ancora tutto sport, male i tre in linea, anche per la poca copertura del centrocampo, e degli esterni troppo sbilanciati. Quindi ci sono dei commenti inevitabilmente non positivi dopo le quattro schiaffi subite dal Permo, dopo quelle che sono state le vicissitudini del Barbera. Andiamo ancora avanti perché i tifosi ribadiscono quello che è un concetto espresso anche dal patron Gian Paolo Pozzo, con il virgolettato, state scherzando con il fuoco della Serie B, il web scatenato, lo spettro della retrocessione torna dopo i quattro gol presi a Palermo, e c'è anche chi spera nel 5-5-5 di Oronzo Cana, è uscito fuori anche questo durante i social. Insomma, un momento in cui si è fatta anche un po' di ironia su una situazione non brillante dal punto di vista dei risultati. Per rispondere anche a questo momento si continua a parlare anche del mercato. Il titolo scelto dal messaggero Veneto è dedicato a Quagliarella e Armero, non solo centrocampo, voci da Torino, Udinese vigile sul Granata, ma Pozzo pensa di più ad una seconda punta, si cerca anche un esterno sinistro, ma alla fine può restare davvero il colombiano. Per l'attacco il procuratore offre Paoligno, ex Livorno, Cairo, Saltato Taxidis, ci prova con Berami. Si lavora anche per il futuro prossimo l'acquisto della stellina Balic. Quindi queste altre indicazioni che arrivano da Radiomercato, che è in fermento in questa ultima settimana. A fianco si parla anche di altre voci, flash, con lo svedese Iliemark, Iliemark del Palermo, protagonista anche dell'ultima giornata del campionato dei bianconeri, che potrebbe essere un elemento di interesse per il Watford. Secondo alcune testate online, lo svedese ex Helzburg e PSV, che ha deciso la sfida con l'Udinese con un gol e un assist nel mirino delle squadre inglesi come il Norwich. Ma secondo il procuratore Fiorini, recentemente è stato un avvicinamento del Watford che vuole fortemente Iliemark in questa finestra di mercato. Invece si dovrà accontentare di prendere Suarez dalla Fiorentina, perché Zamparini non reputa lo svedese cedibile a gennaio. Quindi queste le indicazioni che arrivano su Iliemark, calciatore del Palermo, che dunque è sondato da più parti per quello che riguarda il momento inglese. Un mercato che va avanti, Inter che va all'assalto di Eder e Soriano, hanno ceduto Guarini, Incini, Arnocchi e Lassamp, e Mancini tenta questo doppio colpo. Le altre voci di mercato, che poi ritroveremo anche sulla Gazzetta, sono Lazio su Tissone, Floro verso il Genoa, Petagna, che firma invece con l'Atalanta. Queste le situazioni che arrivano dal mercato. Torniamo però a parlare di quello che è il momento bianconero, con la squadra che dunque è tornata al lavoro immediatamente senza il giorno di riposo, vista anche la situazione del ritiro. Squadra già al lavoro nell'indifferenza generale. Nessuna protesta ai tifosi al Bruseschi al primo allenamento della settimana. Bianconeri in azione sul campo 3, lontano dalla vista dei pochissimi presenti. Quindi questa è la situazione che viene inquadrata, con uno scatto ancora della partita di Palermo e con un altro scatto di Cyril Theroux, che sembra quasi chiedere scusa, scrive la Dida Scaliere, a cinquantina di tifosi bianconeri presenti a Palermo dopo la sconfitta. L'infermeria, le notizie che arrivano dall'infermeria, con Felipe che recupera dopo la botta, la contusione, la coscia subita in quel di Palermo. Avrà a disposizione qualche giorno di lavoro, ma probabilmente con qualche allenamento differenziato smaltirà il tutto. E con la Lazio ci sarà. L'obiettivo perseguibile è quello, lo stesso anche di Totò Di Natale, che ieri ha lavorato insieme al preparatore De Guidi, che lo ha condotto per i Bruseschi in anellando giri di campo. Dopo il forfè di Palermo, il numero 10, sembra aver recuperato del tutto l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra, che lo ha messo fuori gioco. E per domenica l'Udinese recupererà anche Danilo, da valutare anche la disponibilità dal primo minuto di Zapata, Cone e Guilherme, che sono in crescendo di condizioni. Quindi queste le situazioni con Domizzi e Pasquale, che sono stati impiegati ieri anche in esercizi di velocità, nella seduta differenziata, e che stanno rispondendo bene anche loro a quello che è il loro iter di recupero. Andiamo subito sotto per vedere altre tematiche calde. Quella relativa alla prova TV, che non ci sarà per De Rossi, per l'insulta a Manzucic. Palazzi non ha inviato le immagini al Giudice Tosell, nel referto dell'arbitro non c'è riferimento all'episodio. Il romanista era stato pescato dalle telecamere, mentre diceva Zingaro di puntini e puntini, l'attaccante della Juve, l'ex Citi Lippi e Boniek lo difendono sull'episodio. Questo non è razzismo, insomma, un momento in cui tutto quello che si dice in campo sta salendo all'ordine della ribalta. E poi ancora la Coppa Italia con il Milan, che punta su Balotelli per la sfida con l'Alessandria. Questo confronto fondamentale per la stagione, ha detto Sinisa Mijailovic, che non vuole assolutamente sorprese in un match che profuma di storia per l'Alessandria, ma che per il Milan significa invece un momento importante per cercare di conquistare la finale della Coppa Nazionale, provare ad alzare un trofeo in una stagione ancora molto, molto complicata. Andiamo avanti ancora con la lettura del messaggero Veneto e lo facciamo con quelle che sono le situazioni anche di casa GSA. Usciamo un attimo dal mondo del calcio, vediamo il mondo della palla a spicchi. A Orzi nuovi faremo le prove per i play-off, parole di Poltroneri, che lancia la GSA verso il big match, dopo l'inattesa sconfitta di Milano, Milano difesa col coltello tra i denti, Cini Cini attacco, ecco i segreti per vincere questa risposta. La gara che si giocherà domenica alle 18 in casa della capolista del Girone B ha il sapore di un prelibato antipasto, preludio ai play-off, promozione della prossima primavera. Chiudiamo la GSA, ma non chiudiamo il messaggero Veneto, ci spostiamo sull'edizione che riguarda invece il momento dell'Udinese, sempre con il gazzettino. Andiamo avanti con quelle che sono le scansioni relative al panorama bianconero. Pozzo, processo ai giocatori. Il patron difende con l'Antuono e chiede pazienza al pubblico. Viene sottolineato la rabbia per i risultati, viene infilato anche un sospetto. La squadra non sta ascoltando il tecnico. C'è un altro, virgolettato, ripreso. A Udine hanno tutto ciò che serve, sono pagati, devono motivarsi. Queste parole che vengono riprese sempre dall'intervista realizzata in collegamento telefonico con noi di Udinese TV. Ci sono anche le voci riprese, Calori, Nuovo Mister, stanno accostando diversi nomi, tra cui Calori, in questo quotidiano viene ripreso. Anche il nome di Valem, quindi Gazzettino che riprende un po' anche tutte le indiscrezioni. Va però poi anche a scansionare quelle che sono le cifre. Il centrocampo non segna e non difende, porta con la brodo. Le capacità realizzative sono da retrocessione. Quindi un'analisi che va ad indicare quello che è un momento negativo, in particolare del reparto attaccanti. ma in chiave il centrocampo. Silvio Terro tiene in piedi la baracca dall'atto dei suoi sette gol. Duvanzapata insegue con quattro. Poi ci sono Emanuele Badu, Stipe Perizza, Totò di Natale e Francesco Lodi. E si sottolinea fine, perché la lista dei marcatori finisce qua. Non segna più nessuno, mancano in poche parole. Le reti del centrocampo, a secco Bruno Fernandes e Conee, servirebbe uno alla Piotr Zelinski, reclamato dai tifosi, così come gli acuti episodici dei difensori. Si sta avverando il più arcaico dei timori bianconeri senza un di Natale su per quale futuro l'interrogativo ripreso dal Gazzettino con il momento della squadra che effettivamente non sta trovando con continuità la via della rete. E a questo punto, in spalla, si parla anche di un'ipotesi che torna di moda, quella relativa a Quagliarella. L'Udinese non segna più, il mercato sta per chiudere, ma c'è un'ultima carta da giocare e quindi il Gazzettino la inquadra con il nome di Quagliarella, peraltro un nome che sembrava essere scartato dopo le vicissitudini dell'Epifania, dopo due gol consecutivi di Stipe Perizzi, insomma, sia la sticella del mercato, sia la sticella di gradimento, insomma, è molto variabile in base alle prestazioni, serve una sterzata, è un qualcosa che viene richiesto in entrambi i quotidiani, se arriverà dal mercato, se arriverà dal campo, lo diranno ovviamente anche le prossime prestazioni, considerando però che la prossima partita è proprio con il mercato che sta suonando gli ultimi rintocchi per la sua sessione di gennaio. Andiamo a vedere anche con la Gazzetta dello Sport quelle che sono le principali tematiche, perché la Gazzetta vede quella che è la lotta per lo Scudetto con una sfida tra argentini che accende la corsa al titolo, lo Scudetto in Accadigua, in Di Bala, due iniziali dei talenti che stanno segnando il campionato, chi vale di più? Il Pipita, che sta trascinando il Napoli al top della carriera. Paolo è il nuovo centro di gravità della Juve e può crescere ancora, quindi orbita attorno a questi due giocatori, veramente in condizione straordinaria, quello che è il momento del campionato, anche la loro valutazione è praticamente identica, 94,5 milioni, la clausa recessoria del Pipita sotto contratto fino al 2018, 100 i milioni, che sarebbero la valutazione attuale di Paolo Di Bala, Juve ha detto no ad un'offerta di 75 milioni, ora vale già molto di più, 100 milioni anche la nuova quotazione che ha dato proprio al suo ex patron Zamparini relativamente a Paolo Di Bala, calciatore che è in assoluta ascesa anche dopo il gol decisivo, contro la Roma, sotto la testata le mosse di mercato, Inter punta tutto sui gol di Eder, ciao Guarin, Shanghai lo aspetta, Mancini deciso, voglio lui, ha offerti 13 milioni alla Samp che però ne chiede 15, in pressing c'è anche il Leicester di Ranieri e la Vezzi in questo momento passa in secondo piano, dunque continua quello che è il momento del mercato legato a questi due volti, quello di Guarin in uscita, quello di Eder in entrata, sono già diverse ore che si fa questa porta girevole per i due che sono destinati evidentemente ad una traiettoria quasi in perfetto cambio, in stampo di cambio, sostituzione diretta nel corso di una partita. Andiamo a vedere invece quello che è il momento del Milan, sempre parlando di milanesi, questa sera impegnato in Coppa Italia, a ballo subito in campo, gara d'andata contro Alessandria però all'Olimpico di Torino, anche Rivera in tribuna per la storica semifinale tra le sue ex squadre. Mijailovic dice però chiaramente non possiamo fallire, è chiaro che in questo momento l'Alessandria sta attirando le simpatie un po' di tutti, ma Mijailovic vuole portare a casa la finale di Coppa. A proposito ancora di Milan, ceduto, il Sharaoui a Roma sbarca, il Faraone dice sono carico, Gervinio invece va in Cina, rotta su Perotti, offese a Mandzukic, De Rossi si salva, niente, prova TV, subito a fianco ancora notizie del mondo dello sport, Raikkonen crede nel rosso, nel 2016 noi della Ferrari partiamo per vincere e poi il CIO che fa una vera e propria rivoluzione ai giochi, apertura ai transessuali e non dovranno operarsi questa una piccola svolta per quello che riguarda il mondo olimpico, chiudiamo con rompi i palloni di Genegnocchi, ieri De Rossi ha proposto a Mandzukic per fare pace, chiudiamola qui e facciamoci una bella zingarata, quindi ancora ovviamente ironia da parte del comico su uno dei casi più scottanti della domenica del pallone. A proposito invece di un duello che riguarda invece la classifica, l'altissima classifica, torniamo a vedere quella che era la fotonotizia di prima pagina, Iguain di Bala, chi è il più forte questo l'interrogativo, c'è un'analisi anche che riguarda i due dal punto di vista delle cifre, dei punti in cui hanno segnato, dei tocchi per zona, insomma la Gazzetta ha avuto scansionare da molto molto vicino quelle che sono le prodezze di questi due giocatori, sono riprese anche alcune delle giocate dell'ultimo turno, in particolare il super aggancio di Bala che poi ha scagliato un pallonetto finito sulla traversa in posizione di offside ma ha realizzato qualcosa di veramente straordinario, oltre a un gol preziosissimo, Iguain con la maglia rossa con cui ha segnato l'ultimo gol in ordine di tempo di un campionato che lo vede assoluto protagonista, si parla anche della loro quotazione, come è cresciuta, è un grafico decisamente verso l'alto per entrambi, la freccia, la linea nera è quella di Paolo Di Bala, quella arancione è quella del Pipita Iguain, Di Bala che in questo momento ha sorpassato il Pipita considerando anche l'età insomma è assolutamente normale, giocatori che comunque si attestano su cifre veramente pazzesche, siamo nell'orbita delle tre cifre per quello che riguarda Di Bala, poco meno per Gonzalo Iguain, si parla ovviamente anche di quello che è un percorso importante per questi due bomber, la Gazzetta ha provato anche a scansionare un po' quelle che sono le loro radici, il loro percorso di crescita all'interno del loro panorama, Iguain più forte della meningite di Bala Stella in dieci minuti, un'evoluzione anche del classico centravanti, in effetti anche per quello che riguarda il centravanti dell'Argentina si passano in rassegno un po' tutti quelli che sono i volti della storia dell'Argentina arrivando fino agli ultimi Battistuta, Crespo e Iguain è il 9 che adesso segna un po' il corso della selezione mentre i primi gol di Paolo Di Bala arrivano con l'Istituto i primi gol del Pipita sono arrivati con la maglia del River eccoli qui in foto decisamente più datate Di Bala non è cambiato granché per Gonzalo Iguain invece c'era una folta chioma che adesso ha lasciato spazio ad un look decisamente differente sta di fatto che però i due hanno creato un percorso veramente molto molto importante il Pipita fu salvato in ospedale ma i medici non avevano certezze sul fatto che camminasse il papà Di Paolo lo portò a un provino e tornò a casa da solo e questa è assolutamente indicazione sulla qualità di Di Bala e se per quello che riguarda un po' la crescita di Iguain si guardava ai centravanti per Di Bala i paragoni sono ovviamente con i classici fantasisti qui il paragone parte ovviamente da quello che è il fantasista per eccellenza in Argentina Maradona poi si va su Saviola non si può che passare anche da Lionel Messi c'è anche Aghero e infine proprio lui Paolo Di Bala che dal 2015 entra dunque nel novero anche di quelle che sono le idee e i momenti della selezione nazionale oltre che del panorama della Juventus con cui sta facendo cose eccezionali giriamo pagina andiamo avanti con la lettura della gazzetta dello sport in edicola questa mattina perché oltre a questi due ovviamente ci sono due squadre che vogliono dare il massimo per l'obiettivo scudetto da una parte l'intervista a De Laurentiis pagina 6 Napoli Super il top player va in panca quindi meriti anche a Sarri carica Buffon invece per la Juventus il momento è eccezionale va sfruttato mettiamo fieno in cascina io smetto dopo il mondiale poi gli affari perché si parla ancora per il Napoli della possibile uscita di Gabbiadini 25 milioni richiesti al Wolfsburg per cedere Gabbiadini c'è la stretta finale anche per Barba in difesa e poi invece c'è per la Juventus un impegno molto più imminente quello della Coppa Italia tocca a Morata nell'andata di Coppa e in porta gioca netto quindi queste le indicazioni che arrivano dal momento Juventino per quella che è un'altra partita imminente andiamo adesso a parlare invece dell'Inter un momento quello nero-azzurro che parla molto di mercato con tutto su Eder Mancini voglio lui superato Lavezzi a fare da 13 milioni questa ancora l'idea che viene rimarcata ancora una volta dell'Inter con il volto di Eder che continua a essere accostato in nero-azzurro e poi ancora le altre trattative Guarin che va in Cina Rolando o De Maio se dovesse entrare un altro difensore Freddy Shanghai Ranocchia giovedì sarà della Samp Soriano congelato e Banega invece diventa obiettivo per giugno queste le situazioni in casa interista ma c'è anche l'altra milanese che oltre al mercato sta guardando con grande attenzione soprattutto l'impegno di Coppa Italia un impegno che da molti viene definito come esito scontato non è della stessa idea Sinisa Mijajlovic perché chi bleffa in Coppa dice si scorda il derby Mijajlovic duro vietato risparmiarsi con l'Alessandria scorciatoia per l'Europa vale la stagione del Milan punta secondo le indiscrizioni di formazioni su quello che è il duo d'attacco composto da Luis Adriano e Balotelli quindi queste le scelte di Sinisa Mijajlovic con poi il resto della formazione che dovrebbe vedere impegnati nel suo 4-4-2 Boatengose Mauri Poli Onda centrocampo in difesa Antonelli Romagnoli Zapata De Sciglio con Abbiati in porta dall'altra parte invece dovrebbe partire ancora dalla panchina l'eroe di Coppa Bocalon con dunque Gregucci che sarebbe pronto a schierarlo a partita in corso ancora per magari provare l'ennesima impresa questa volta non non in trasferta però comunque lontani ancora da Alessandria olimpico di Torino il campo scelto per questa gara per l'Alessandria Milan che comunque oltre al discorso dell'attacco continua a essere molto vigile anche per il discorso del mercato dall'altra parte però si parla inevitabilmente anche un po' di quello che è il miracolo Alessandria Berlusconi firmi a vita con Mijailovic per Gregucci sarà Serie B parla il mago dei muscoli Sergio Viganò massaggiatore legato ai due tecnici sono i miei figliocci come Mancio Sinisa alzerà la Coppa l'Inter andrà in Champions quindi queste le indicazioni che arrivano anche sul momento legato al Milan andiamo avanti ancora con la lettura della Gazzetta siamo con gli ultimi minuti della nostra rassegna ma vogliamo andare a vedere anche un po' tutte le situazioni che riguardano il momento non solo delle big ma anche di tutte le formazioni principali c'è il momento della Roma anche i gladiatori non sconfiggono la crisi c'è la foto di Esciarawi con la sciarpa della Roma il faraone da ieri in città oggi visite per lui Livariano allebei si parla di Gervinio che libera Perotti ci sono anche tante altre trattative che riguardano un po' tutte scusate le principali formazioni del panorama della serie ha tante le indiscrezioni in questa ultima settimana che porta inevitabilmente ai cambiamenti determinanti per tutte le formazioni e poi però si parla inevitabilmente anche di quello che è il momento in Casa Bianconera andiamo a scansionare meglio anche quella che è la situazione si parla inevitabilmente di quello che è un momento di crisi e il titolo è abbastanza forte benvenuti all'inferno pagina 18 per la corsa salvezza vengono inquadrate Udinese Genoa e Sampdoria con in particolare il pezzo realizzato da Francesco Velluzzi su Udinese con Pozzo che blinda il tecnico con Antuono resta ma si sta tutti in ritiro il semaforo è giallo quella che è stata la metafora utilizzata dal patron bianconero per evidenziare quello che è il momento dell'Udinese un semaforo giallo che si è acceso un Udinese che si iscrive da qualche anno ha smesso di fare grandi colpi all'estero in questa stagione ha impostato la costruzione dell'impianto arrangiandosi con giocatori come Lodi Felipe che stanno funzionando altri Turra Marchigno già partito e Denizio Ghirme che invece non stanno andando come le attese dopo tre sconfitte di fila il club ha spedito tutti in ritiro fino a venerdì poi a gradisca di Zonzo è necessario perché serve concentrazione a detto Pozzo insomma ribadite anche sulla gazzetta dello sport quelle che sono le parole del patron ai microfoni o meglio al telefono in collegamento telefonico con Udinese TV da Barcellona chiudiamo la pagina dedicata all'Udinese insomma un momento di difficoltà che viene ripreso da tutti i principali quotidiani compresi quelli nazionali andiamo a vedere con le prime di Corriere tutto sport anche come viene inquadrato il momento calcistico a livello nazionale rilancio Inter arriva Eder continua ad essere questa la trattativa più calda del momento la Roma con la foto di El Sharaoui sbarcato il faraone ora perotti Gervinio via Di Bala che parla Iguain ti invidio il destro io e Gonzalo siamo amici ci sentiamo spesso un giorno spero di assomigliare a Messi e poi ancora De Laurentiis Napoli due colpi Scudetto preso un altro tecnico anche tedesco per allenare questo Palermo e la Lazio su Cabral l'operazione si può chiudere Milan che invece vede l'ora di Balotelli Coppa Italia prima semifinale contro l'Alessandria vediamo anche tutto sport prima di salutarci pronto chi segna questa è una sorta di telefonata retroscena Iguain e Di Bala si telefonano prima di ogni partita la sfida Scudetto Juve Napoli nasce così con questa sorta di rituale e poi ci sono le 20.000 sfumature di grigio stadio olimpico di Torino un incredibile esodo di tifosi l'Alessandria ci prova pure col Milan dunque spazio sotto la testata di tutto sport di quest'oggi anche per un'altra formazione piemontese oltre a Juve Toro con il Toro che invece da 15 giornate è in media serie B dal flop di Carpi a quello di Firenze la parabola discendente di Ventura è analizzata nel quotidiano in edicola questa mattina siamo in chiusura invece con la nostra segna stampa sportiva la linea che torna alla regia e un buon proseguimento sempre più con noi su Udinese TV buona giornata e un buon proseguimento e un buon proseguimento Grazie.